E' un motivo molto semplice, quello che si accumulano gli impegni e quindi è bene fare poche cose, farle al meglio. Ci saranno altri colleghi del mio gruppo che raccoglieranno questo incarico in Commissione. E' stato comunque un bel periodo, devo dire, sia per il rapporto con il Presidente Finozzi, sia perché transitano dalla Prima Commissione tutti i provvedimenti più importanti, a cominciare dal bilancio. Continuerò a partecipare alla Prima Commissione, ma non più come Vice Presidente. La Prima Commissione ha comunque davanti a sé degli impegni molto interessanti, anche per la politica veneta, a cominciare dal tema dell'autonomia, perché non si tratta solo di un referendum, si tratta di un processo di acquisizione di nuove competenze, di distribuzione dei poteri e anche di risorse. Quindi investirà tutti i campi d'attività della Regione. Questo potrà essere sicuramente l'argomento prioritario dei prossimi due anni, credo. Oggi mi è stato comunicato le dimissioni da Vice Presidente del Consigliere Stefano Fracasso e devo dire sinceramente che mi dispiace, perché con Stefano Fracasso avevo instaurato un bellissimo rapporto di collaborazione, collaborazione costruttiva. Con lui abbiamo messo in piedi tantissime iniziative, abbiamo cercato di dare un ordine alle cose che vengono discusse in Prima Commissione. Le dimissioni non sono motivate da particolari problemi, ma dal fatto che lui qualche settimana fa è stato nominato capogruppo del gruppo del PD. Quindi giustamente non andando ad occupare due sedie contemporaneamente ha deciso di lasciare questo ruolo, che ripeto dispiace perché su Stefano Fracasso è sempre riconosciuto professionalità, serietà e anche permettetimi amicizia che in politica, anche se di parte avverse non basta.